Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Se mi seguite da un po' sapete che una delle mie più grandi passioni è il teatro o comunque qualsiasi cosa si svolga sopra un palcoscenico e quindi oggi ho deciso di parlarvi della mia esperienza all'interno di un particolare tipo di spettacolo ovvero il musical infatti io faccio parte ormai da più di 15 anni di un gruppo di giovani artisti diciamo ci possiamo definire chiamato gruppo super mario che appunto da anni fa crea questo genere di spettacoli sia di musica che di intrattenimento e quindi oggi sono qui per raccontarvi la mia esperienza vi dico fin da subito che vedrete un sacco di video molto particolari totalmente inediti dove mi vedrete in tutte le mie forme quando appunto ho interpretato vari personaggi nei vari musical prima di iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video e se non lo fate già di seguirmi su instagram io sono martina tazza cominciamo! prima di tutto come vi ho detto il gruppo super mario è nato oltre 15 anni fa all'inizio ci dedicavamo quasi esclusivamente a spettacoli di canto che fossero gare di canto oppure semplici spettacoli di intrattenimento per adulti o per bambini fatto sta che principalmente cantavamo poi nel tempo abbiamo deciso di metterci in gioco e sperimentare anche delle nuove forme d'arte come il varietà o appunto il musical voi considerate che adesso abbiamo all'incirca tra i 20 e 30 anni però abbiamo cominciato a fare musical nel 2014 quindi eravamo quasi dei bambini eppure insomma questa passione già da già allora ci accomunava e ci accomuna tuttora quindi direi subito di cominciare con il primo musical nel 2014 abbiamo messo in scena Peter Pan allora prima di tutto c'è da dire che noi copioni e le basi musicali sulle quali ovviamente cantiamo sempre dal vivo le prendiamo su internet su internet c'è tanto materiale sia gratuito che a pagamento e noi cerchiamo chiaramente di avere del materiale di qualità soprattutto le basi musicali poi una volta ottenute queste chiaramente cominciamo a dividere i ruoli e a organizzare anche le scenografie per quanto riguarda i ruoli poi lo vedremo anche più avanti con uno dei musicali dei quali vi parlerò ovviamente tutti quelli che fanno parte del gruppo Super Mario ogni anno devono avere una parte quindi non è che se una volta uno spettacolo ha qualche personaggio in meno le persone che non hanno una parte vengono mandate via assolutamente no, adattiamo ogni spettacolo in modo che tutti possano avere una parte e partecipare quindi in questo caso avevamo le musiche voi la maggior parte le conoscete sicuramente perché sono le classiche musiche di Bennato per appunto Peter Pan e per le scenografie ci eravamo organizzati in una maniera spettacolare ovvero avevamo per la cameretta avevamo un disegno enorme realizzato quindi proprio su carta e attaccato sulla parete di fondo del palcoscenico sulla quale era poi stata anche ritagliata una porta che doveva rappresentare appunto la finestra dalla quale i bambini potevano uscire e volare verso l'isola che non c'è per il resto delle scenografie che erano praticamente il luogo dove vivono i bimbi sperduti e la nave di Capitanoncino avevamo dei grandi pannelli che praticamente hanno due lati e quindi venivano girati ogni volta che la scena cambiava chi cambiava le scenografie? erano le ballerine questo perché noi ogni anno abbiamo collaborato con una scuola di danza che metteva a disposizione le proprie ballerine per le coreografie quindi il corpo di ballo ecco in Peter Pan le scenografie venivano cambiate in scena quindi c'era un momento di pausa in cui le ballerine con una coreografia facevano anche il cambio di scenografia in questo musical io ho interpretato John John Matthew a genere Darling ovvero il fratello di Wendy ero un maschio quindi avevo i capelli raccolti in alto con chiaramente il cappello a cilindro tipico del personaggio della Disney la mia camicia da notte l'ombrello immancabile di John e gli occhiali rotondi con la montatura nera purtroppo questo è stato il primo musical che abbiamo fatto e non so come mai non abbiamo riprese dell'intero spettacolo ho soltanto alcune foto e alcune riprese un po' più amatoriali che chiaramente avete avuto modo di vedere mentre io vi raccontavo e che rappresentano al momento i nostri unici ricordi di quella serata ogni musical viene chiaramente ripetuto per più di una sera quindi solitamente riusciamo a fare la prima dello spettacolo proprio nella piazza del nostro paese e poi cerchiamo di portarlo in giro in vari teatri quella era la mia prima esperienza per quanto riguarda i musical ero emozionatissima e ho ancora oggi un ricordo meraviglioso dei momenti su quel palco in cui veramente ci sentivamo in un mondo a parte in una bolla felice mentre fuori tutta la piazza del paese era piena di persone che ci guardava è stato bellissimo l'anno successivo nel 2015 abbiamo messo in scena Cenerentola e voi direte ma Cenerentola non è un musical perché alla fine è tratto dal cartone animato della Disney e ci sono sì e no un paio di canzoni due tre canzoni molto brevi quindi non è un vero e proprio musical ma noi in realtà abbiamo scelto Cenerentola perché eravamo un po' in ritardo con i nostri tempi perché ovviamente per preparare ogni musical ci vogliono mesi e mesi di prove quindi essendo arrivati un po' in ritardo abbiamo trovato in Cenerentola la giusta soluzione perché era comunque un musical che aveva il giusto numero di personaggi ed era anche abbastanza semplice da mettere in scena abbiamo quindi creato per quanto riguarda le scenografie era più o meno lo stesso criterio di Peter Pan quindi sempre i pannelli con la scenografia del ballo quindi del castello e la casa della matrigna mentre per quanto riguarda le musiche abbiamo fatto una cosa molto particolare è stata l'unica occasione in cui l'abbiamo fatto abbiamo preso le basi di canzoni italiane conosciute e che abbiamo cambiato i testi praticamente per adattarle alle varie situazioni che volevamo raccontare durante insomma il musical per esempio abbiamo preso la canzone il gatto e la volpe di Bennato l'abbiamo adattata ad una canzone che potessero cantare a Nassade e a Genoveffa le sorellastre insomma è stato veramente molto divertente e qui in questo musical io ero Cenerentola è stato l'unico musical in cui sono stata protagonista ed anche qui è stato chiaramente molto emozionante soprattutto il momento in cui ho potuto indossare il bellissimo vestito da principessa che la fata madrina insomma aveva creato per me è stato molto molto bello era un musical dedicato magari un po' più ai bambini perché è una storia molto adatta ai bambini e anche questo è stato messo in scena nella piazza del nostro paese Siamo nel 2016 e quest'anno abbiamo fatto un piccolo salto di qualità perché abbiamo messo in scena The Lion King Il Re Leone basandoci proprio sul musical che va in scena da oltre 20 anni e che è stato portato nei maggiori teatri di tutto il mondo per questo musical perché dico che abbiamo fatto anche un salto di qualità perché abbiamo utilizzato anche abbiamo chiesto anzi l'aiuto di una costumista e di una truccatrice La costumista ci ha aiutati chiaramente a trovare le stoffe e a cucire alcuni dei vestiti che dovevano rappresentare degli animali quindi non era semplicissimo e per quanto riguarda ovviamente la truccatrice ha ricreato nei nostri volti le forme degli animali che rappresentavamo Le scenografie qui erano molto più semplici perché avevamo creato la rupe dei Re che era una pedana in legno rivestita quindi molto molto carina che rendeva molto bene l'idea e per il resto invece avevamo delle proiezioni quindi praticamente venivano proiettati i vari luoghi dove si svolgeva la scena che era in atto in quel momento comunque luoghi della savana quindi era stato un pochino più semplice in questo caso ci siamo esibiti su un palcoscenico gigantesco è stato veramente molto bello e sempre chiaramente nella piazza del nostro paese per quanto riguarda la prima dello spettacolo qui io interpretavo Rafiki la scimmia che appunto ha un ruolo un po' non so, sembra quasi che tenga un po' le redini della storia anche in questo caso è stato bellissimo perché le canzoni eravamo riuscite a trovare proprio le canzoni del musical quindi la voce principale era fatta da noi ma nella base c'erano anche già registrate i cori ecco e quindi questi cori tribali africani con queste parole in una lingua che è meravigliosa chiaramente aiutavano a dare ancora più spessore al musical e inoltre non tutte le canzoni sono uguali a quelle del cartone animato e quindi era ancora più ricco ecco lo spettacolo per me è stato bellissimo interpretare quel ruolo perché anche se non è un ruolo il ruolo principale dello spettacolo è comunque, mi sono sentita comunque in una parte importante e che mi ha messa alla prova e insomma spero di averla anche superata questa prova il 2017 è l'anno di aggiungi un posto a tavola il primo anno in cui non abbiamo messo in scena un cartone animato aggiungi un posto a tavola è una storia che forse i più giovani di voi non conoscono ma i miei genitori insomma la conoscevano bene quindi la commedia il musical con Johnny Dorelli all'inizio ero molto titubante perché credevo che si trattasse di una storia un po' noiosa di quelle che non piacciono ai giovani di oggi una cosa del genere invece per fortuna la mia mamma mi ha mandato il link del video su youtube dello spettacolo appunto con Johnny Dorelli ho cominciato a guardarlo e mi stavo ero piegata in due dalle risate quindi mi sono resa conto di quanto in realtà la storia fosse carina è stata proposta al gruppo abbiamo deciso di metterlo in scena in questo caso io ho interpretato la segretaria del sindaco ecco che qui entra in gioco questo quel fatto di cui vi ho parlato prima ovvero quando non tutti i componenti del gruppo riescono ad avere una parte adattiamo lo spettacolo in modo che sia possibile nel mio caso il ruolo della segretaria del sindaco non esiste nello spettacolo originale però abbiamo deciso di farlo perché appunto anche io potessi recitare in questo spettacolo e in realtà era un ruolo che comunque ci stava bene l'abbiamo adattato bene oltretutto c'è da dire che il sindaco era una donna ovvero mia sorella quindi era una sindaca ecco quindi che in ogni caso mantenendo il copione più o meno come era originariamente e la storia chiaramente siamo riusciti però a far partecipare tutti allo spettacolo in questo caso le scenografie invece erano state direttamente stampate su dei grandissimi quadrati di carta ed erano state attaccate sul fondo del palcoscenico che era molto grande ed era stato diviso a metà quindi da una parte si vedeva diciamo la città il paese e dall'altra si vedeva invece la chiesa e poi avevamo anche costruito una sorta di arca che potesse essere immessa sul palcoscenico al momento opportuno in questo caso mi sono divertita moltissimo questo musical un po' perché è divertente quindi in generale mi piaceva anche guardare i miei amici recitare e ridevo alle battute ho trovato le canzoni alcune delle canzoni esilaranti altre invece veramente molto coinvolgenti il messaggio che è alla base della storia che viene raccontata è bellissimo e in più c'erano tanti balletti e io che non sono assolutamente una ballerina mi sono cimentata anche in questa cosa e mi sono divertita veramente tanto quindi è stato un musical che mi ha fatta divertire anche se avevo una parte minore è stato comunque molto divertente nel 2018 è andato in scena Sister Act allora come ho detto per ogni musical del quale ho parlato fino ad ora mi sono sempre divertita molto ma questo è al momento il mio musical preferito in questo caso abbiamo messo in scena il musical che è stato portato anche in Italia in giro per i teatri e che io e la mia famiglia avevamo visto quindi le canzoni non erano quelle del film nonostante la storia sia quella del film quindi probabilmente la conoscete però le canzoni erano totalmente nuove e veramente veramente belle perché alcune di queste proprio tanto coinvolgenti perché voi lo sapete che ci sono delle canzoni in cui le suore proprio si scatenano per questo musical abbiamo ideato qualcosa di nuovo per quanto riguarda la scenografia perché abbiamo inserito un sipario più o meno a metà che tagliasse a metà il palcoscenico quindi alcune scene si svolgevano davanti al sipario chiuso in modo che dietro fosse possibile cambiare la scenografia e creare una nuova stanza o un nuovo ambiente poi quando la scena era finita il sipario si riapriva e ci ritrovavamo praticamente in un'altra scena questo ha aiutato chiaramente a rendere lo spettacolo un po' più fluido perché non c'erano più momenti di pausa tra virgolette per il cambio di scenografia ed è stata veramente una trovata geniale in questo musical io ero Maria Roberta la novizia del convento quella ragazza che si fa affascinare dall'entusiasmo e dal carattere travolgente di Delores Van Cartier meglio conosciuta come Suor Maria Claretta perché ho detto che questo musical è il mio preferito prima di tutto perché ci siamo impegnati veramente tanto 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 perché era molto difficile per due motivi il primo è che le canzoni non erano semplici eravamo solo in quattro a cantare dal vivo perché il resto erano ballerini principalmente o comunque comparse tra virgolette quindi eravamo in quattro a cantare ed erano delle canzoni con anche delle difficoltà maggiori di quelli che avevamo incontrato fino a quel momento ci siamo esercitati tantissimo e siamo riusciti ad avere un risultato per me ottimale e per quanto riguarda la seconda difficoltà erano i balletti perché come sapete insomma queste suore scatenate ballano tanto ballano e cantano contemporaneamente quindi erano dei balletti un po' più complessi che abbiamo provato tantissimo nelle sale della scuola di danza che ci ospitava ecco e poi soprattutto insomma abbiamo dovuto anche sperimentare questo fatto di cantare e ballare contemporaneamente vi dico soltanto questo quando abbiamo fatto la prima dello spettacolo che è stata fatta in un teatro o meglio in un auditorium in una chiesa che è una chiesa vecchissima sconsacrata che è diventata appunto un auditorium è stato in un ambiente fantastico ecco quando abbiamo finito la prima dello spettacolo c'era un mio amico a vedermi e mi ha detto guarda nel momento in cui le suore hanno cominciato a cantare tutte insieme quando Deloris insomma gli insegna a cantare la potenza della loro voce ecco la canzone era talmente coinvolgente che io mi volevo alzare in piedi e cominciare a ballare insieme alle suore questo per farvi capire l'effetto che poi ha fatto sul pubblico e questo chiaramente per noi è la gioia più grande 2019 l'ultimo anno prima della pandemia mondiale siamo riusciti a mettere in scena Hercules quindi siamo tornati sui cartoni animati della Disney Hercules è stato molto complicato dal punto di vista delle scenografie e dei cambi scena perché se vi ricordate il cartone animato insomma cambiano spesso le scene e ci sono anche insomma dei mostri ci sono un po' di personaggi anche difficili da ricreare ma ovviamente con il nostro impegno ci siamo riusciti in più ci mancava assolutamente il protagonista ma abbiamo avuto la fortuna che la mia sorellina proprio quell'anno si è fidanzata con un ragazzo che dopo pochissimo tempo che stava con lei è stato trascinato dentro al nostro gruppo e ha interpretato Hercules questo ragazzo voi non lo vedete ma è dietro la telecamera che sorride ricordando la sua performance comunque è stata veramente una bellissima scoperta perché poi Gabriele appunto è entrato a far parte del gruppo aumentando un pochino la percentuale di uomini nel gruppo Super Mario comunque tornando al musical io in questo caso ero una delle muse quindi eravamo in quattro e avevamo tutte quelle canzoni bellissime anche se un po' difficili però anche qui ce l'abbiamo messa tutta che un po' tengono le fila della storia di Hercules e in più visto che ci sono tantissimi personaggi soprattutto tante piccolissime parti tipo i paesani o come possono essere i titani e così via mi cambiavo spesso per interpretare altri piccoli ruoli di questo musical ho un ricordo molto bello perché alla fine è come sempre fare le prove e ricreare le scenografie avevamo preso dei grandissimi pezzi di polistirolo tagliati per fare le colonne per fare i massi e così via insomma è stato veramente molto bello anche se devo dire che tutti questi cambi di costume mi mettevano ansia preferisco avere un musical in cui non mi devo cambiare quasi insomma interpreto un personaggio dall'inizio alla fine però insomma anche questo è stato un modo per metterci alla prova calcolare i tempi proprio al secondo e alla fine anche qui è andato tutto bene ed è stato molto bello e anche in questo caso abbiamo utilizzato la tecnica del sipario a metapalco che ci permetteva di cambiare la scenografia sul retro mentre davanti gli attori continuavano a recitare da quel momento poi purtroppo la pandemia ci ha impedito di proseguire con questi progetti e quindi l'anno scorso non siamo riusciti a mettere in scena nessun musical anche se in realtà al momento stiamo preparando un nuovo spettacolo che è una commedia quindi non è un musical non ci sono canzoni però è una cosa diversa da quella che abbiamo fatto fino adesso che ci sta stimolando tantissimo e speriamo di poterla mettere in scena presto bene ragazzi questo video lunghissimo finisce qui io spero vi sia piaciuto soprattutto vedere le varie scene i vari spezzoni che ho messo dei musical che abbiamo fatto fatemi sapere se a voi piace questo genere di spettacoli se anche voi fate teatro mi fa sempre piacere conoscere anche queste vostre passioni e noi ci vediamo prestissimo con un altro video ciao ciao